Siamo qui in piazza Aldomoro e qual è il luogo migliore per poter fare gli auguri alla nostra città, per poter fare gli auguri a tutti voi. Qui dietro c'è una stella che rappresenta la speranza, rappresenta un futuro differente. Una stella qui dietro si apre alla nostra scuola di Amicis che nel 2021 dovrebbe vedere anche un look differente, una riqualificazione. Secondo i soldi che sono arrivati per ricambiare quella piazza, per riqualificare quella piazza. E l'anno 2020 è un anno che ci dobbiamo lasciare un po' alle spalle, è l'anno del Covid, è l'anno che ha cambiato un po' il mondo intero, è l'anno che ha distrutto un'economia, è l'anno che ha condizionato tutti quanti. La speranza qual è? La speranza è anche in questo vaccino, facciamo in modo che tutti ci vacciniamo, in modo che possiamo limitare la diffusione del virus. Questo è l'augurio che noi facciamo anche per una ripresa economica. Questa città ne ha bisogno, il mondo intero ne ha bisogno. Un sereno buon anno, buon 2021 a voi tutti e alla nostra città.